Un ostello per giovani, famiglie e scolaresche. Questa nuova struttura potrebbe sorgere a Scalea, in via Egidio Covello, in località Petrosa. Un progetto interessante e innovativo con un importante valore aggiunto. Combattere la criminalità organizzata perché prevede l'investimento su un immobile confiscato alla mafia. Tra il verde e il blu, un oasi di tranquillità. Questo è il nome del progetto che l'amministrazione di Scalea ha presentato alla Regione Calabria per partecipare alla costituzione di un parco di interventi di investimento su beni sottratti alla criminalità organizzata. Il bando regionale rientra nell'ambito del POR Calabria First 2007-2013 e la Giunta Basile ha già approvato il progetto preliminare dell'opera che necessiterebbe di un finanziamento di 700.000 euro. E nostra intenzione, spiega il primo cittadino di Scalea, partecipare all'invito che ci viene rivolto dalla Regione. Su tutto il territorio comunale ci sono più edifici sottratti alla criminalità e poterli riutilizzare vuol dire investire ma soprattutto voltare le spalle alle mafie. Inoltre, prosegue Basile, con la realizzazione del progetto riusciremo anche a costruire una piccola attività imprenditoriale che a sua volta produce lavoro. E gli immobili sequestrati in località Pedrosa, conclude il sindaco di Scalea, hanno tutti i requisiti necessari per essere trasformati in una struttura turistica. Dopo la targa a cui l'andrangheta non entra, questo è un altro segnale che la Regione Calabria vuole dare alle mafie, per ribadire in modo forte e concreto un secco no ad ogni tipo di illegalità. La struttura progettata rappresenterebbe una novità per il comune di Scalea. Un ostello non ha le stesse caratteristiche di un albergo, ma ben si presta a soddisfare le richieste non molto esigenti di tanti turisti.